Musica Come abbiamo detto importantissimo il contributo dei bambini che fanno parte di diverse scene, ad esempio ne abbiamo colti diversi che fanno parte della scena numero 4, quella delle nozze di Cana, e vediamo proprio con le loro voci, i loro volti, il loro entusiasmo, lasciando loro il microfono, che cosa dicono di questa partecipazione a questa quinta edizione del Cammino della Speranza. Ciao, sono Alessia, è il primo anno che partecipo, sono molto felice. Ciao, sono Licia, è il primo anno che partecipo nella quarta scena. Ciao, sono Giusefin, è il secondo anno che partecipo, sono felicissima e faccio parte della quarta scena. Ciao, sono Chiara, è il primo anno che partecipo e faccio la quarta scena e sono molto emozionata delle nozze di Cana. Ciao, sono Michela, è il secondo anno che partecipo e sono felicissima e sono nella quarta scena, le nozze di Cana. Ciao, mi chiamo Angela e faccio una scena delle nozze di Cana e sono molto felice. All'interno del Cammino della Speranza, in questo percorso all'interno del Centro Storico di Campodipietra, anche delle aree di ristoro gratuito che sono affidate a delle signore del paese. Ci sono diverse specialità, quindi facciamo la riconoscenza e parliamo anche di quello che viene in questo momento esposto, magari spiegando anche l'origine e come si fa. Io sono Angela. Carolina, Carla. La signora Carla, allora ci spieghi quello che vediamo qui esposto, appunto i nomi, le tradizioni e anche un po' il procedimento per realizzare le cose che vediamo. Abbiamo un classico biscotto con le uova che diciamo fa parte proprio dell'antichità del nostro territorio, cioè vengono fatte con uova fresche, farina zero e questo diciamo che è proprio la caratteristica di questo che è proprio originale. Cotto al forno a legna, asciutto, la caratteristica dei nostri biscotti. Ecco, il biscotto che vediamo normalmente è molto più piccolo, questo che è problematica diciamo di realizzazione? Per evidenziare, per evidenziare, metterlo più in evidenza, in quanto piccolo non avrebbe reso come rende questo grande. Anche c'è da dire che anticamente mettevano il famoso uovo sodo ed era la famosa pigna che tutti i bambini portavano al braccio. Sappiamo che un oggetto del genere ha delle fasi di cottura anche abbastanza complesse. Prima va immerso in acqua, va bollito prima di essere... Questo va immerso in acqua, successivamente va in forno e forno a legna. Parliamo invece anche degli altri elementi, anche delle simbologie che troviamo in questa tavola, perché appunto ricordiamo, stiamo parlando comunque di un qualcosa che ha a che fare con la vita di Gesù, quindi la simbologia del pane e del vino è espressa come? E abbiamo espressa con sempre un biscotto, l'uva, questa rappresenta l'uva, l'ossia e poi il pane intrecciato, quindi rappresenta la vita di Gesù, giustamente, quello che Lui ci ha lasciato a noi con questa manifestazione. Parliamo infine anche di quello che troviamo in questo settore, quindi diciamo i classici dolci che si fanno al ferro, giusto? Sì, sì, si fanno al ferro. Sono le ferratelle, la caratteristica di queste è sempre uova, olio di oliva, farina e zucchero. Ringraziamo le nostre signore che hanno passato comunque, diciamo, molto del loro tempo, negli ultimi giorni per preparare quanto abbiamo visto esposto e parte di queste cose saranno sicuramente anche offerte in degustazione gratuite dal pubblico. Pensiamo con grande soddisfazione e continuiamo il nostro viaggio attraverso il cammino della speranza a Campodipiglia. «Cammina! Muoriti! Muoriti! Cammina! 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 Cam di essere un re. Bene, che venga vestito da re. Un mantello rosso non può mancare al nostro re. Cos'è la tua testa senza una corona? A morte! A morte! A morte! A morte! A morte! Ad un vero re non può mancare uno scelto, ecco il tuo scelto! Sì, amore! E' un vero re! Ma si, ora si che è sempre un vero re! Amore! E' un vero re! E' un vero re! Hai senti? Vuoi fare? Sì! Amore! E' un vero re! Tu chi sei? Sono Simone! Vengo la sirena! Aiuto a portare l'acqua a tutti! Amore! 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 E' un impostore! E' un impostore! Amore! 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 Cosa c'è mio re? Sangue e sudore arascendono dalla tua fronte? Amore! 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 E' un impostore! Faccia e il fa noises! Oh, come. Amore! 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 Ca ma mia. A se sia gratifisso! Amore! 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 Gesù! Fermati, donna! Dove vai? Fermati! Fermati! Gesù! Che danno fa... Gesù! Che danno fa... Vieni via! Alzati! Non soltanto dolci ma anche pasta fatta in casa e qui, oltre all'aspetto caratteristico della pasta, c'è anche proprio gli arnesi. Si essiccava la pasta con delle cannucce intrecciate che fa un artigiano locale con le cesta. Così si essiccava la pasta, così si faceva il formaggio. Sono attrezzi che si usavano una volta e che adesso non ci sono più, giustamente. Ecco, però questi vediamo che sono relativamente nuovi, quindi c'è ancora comunque... Sì, c'è ancora chi li può fare queste cose, certo. Nel Cammino della Speranza anche dei punti di storio gratuiti, in questo caso la signora che si chiama? Franca. Che cosa offrite? Vino e taralli. Il Cammino della Speranza, dalla nascita alla rinascita, è questo il titolo della rappresentazione vivente delle scene, della vita, della passione, della morte e della risurrezione di Gesù a Campodipietra. La Domenica delle Palme, fino alle 24, questo evento ha coinvolto tantissime persone, proprio qui a Campodipietra, che vi stiamo riproponendo appunto questo evento sui nostri canali. L'11 in Morise, il 96 in Abruzzo, il 749 a Roma e nel Lazio e ovviamente su www.telemorise.com. Continuate a seguirci.